Mario Boni, che fascino ha la maglia azzurra dopo tanti anni? Quando giochi con quello che era il capitano della nazionale, Flavione Carrera, per me è solo una goduta, per me è un grande onore, vedevo questi ragazzi che hanno grande entusiasmo, grande voglia di giocare, grande attaccamento alla maglia, grande voglia di divertirsi, cercando di resistere agli anni che passano, quindi è un'esperienza veramente molto bella, per me è un onore vestire la maglia della nazionale, ripeto, c'è un giocatore come Flavio Carrera, c'è Piero Montecchi, c'è Solfrini, c'è Gigiomentassi, sono tanti giocatori che hanno fatto parte della Serie A, hanno onorato la maglia azzurra e sono di conseguenza molto contento e onorato. E' anche un po' emozionato, fra poco sarà in campo contro la Russia, seconda partita di questi mondiali qui a Salonico? Beh, ogni partita sai, più si va avanti, non avendo noi più età così giovane, c'è sempre più difficoltà a recuperare, è solo la seconda partita, una partita come tu dicevi, ricordavi, contro la Russia, quindi è da rispettare perché la tradizione del basket nell'est Europa è sempre molto alta, dobbiamo fare la nostra parte e vincere. In bocca al lupo! Viva il lupo! Viva il lupo!